Cinque ragazze trovate tramite annunci online e decine di clienti ormai affezionati a quel finto centro massaggi aperto anche di notte. Scoperto un giro di prostituzione in via Montegrappa a Belluno a scoprire cosa ci fosse dietro quel via vai osservabile certe sere e gli uomini della squadra mobile della Questura. Le indagini sono iniziate alla fine dell'estate coordinate dal PM Simone Marcon e ieri sono culminate nell'arresto di una coppia cinese. Lui classe 1957 un ex ristoratore formalmente residente in provincia di Torino si occupava di vigilare sulla riservatezza dell'attività. Lei classe 1973 residente a Milano si occupava di fatto del business illegale gestendo i soldi e distribuendo le paga alle dipendenti tutte di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Questo centro massaggi in realtà forniva prestazioni erotiche a pagamento con un tariffario ben preciso e faceva fruttare alla coppia circa 15 mila euro al mese. La coppia dei arrestati insieme a un'altra dipendente loro viveva all'interno del centro, c'era un angolo cucina, un angolo bagno e dormivano nei letti dove venivano espletati anche i massaggi. I clienti pagavano dai 30 ai 250 euro in contro in base alle prestazioni e richieste. Di soldi ne giravano molti come emerso anche durante la perquisizione dei locali. All'interno di una lavatrice sono stati trovati 5 mila euro in contanti e in casa c'erano anche alcuni assegni da 20 mila euro, carte prepagate e somme in yuan, la moneta cinese. Tutto sequestrato insieme ad alcuni computer ed altro materiale ritenuto interessante, tranti concezionali, tessere fedeltà e blocchetti per fatture. L'immobile, di proprietà di un italiano, era stato preso in affitto da una società intestata a una prestanome, titolare anche della sim impiegata per fissare gli appuntamenti a luci rosse che si svolgevano in appositi camerini. L'attività era stata aperta nel 2016 e i soldi venivano in parte reinvestiti e i poliziotti stanno cercando di capire in quali attività e in gran parte risparmiati nonostante le frequenti giocate alle slot machine. Ora però i due cinesi dovranno rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Lui è finito nel carcere di Belluno mentre la compagna è stata portata nella struttura veneziana della Giudecca.